La partita, una bella barba, la partita è il titolo del film però, Francesco Kernesecchi che è il regista di questa opera con Pannofino. La partita di che cos'è? La partita di ballone, che partita è? Sì, è una partita di calcio minorile, di bambini, in un campo di periferia di Roma, quindi terra, polverone, famiglie coinvolte, cadute, ginocchia sbucciate. Sì, sì, tutto questo qui, allenatori frustrati, presidenti corrotti. Bello, e rispecchia la realtà. Sì, 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 è molto verosimile. Com'è stato lavorare con Pannofino? È stato bello. No, 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 Francesco è un professionista e ci siamo trovati bene, anzi si è stretta un'amicizia anche al di fuori del progetto. Francesco, Francesco? Francesco e Francesco. Mi sembra perfetto. Ah, mon die. Frank e poi? Frank, Frank. Frank ha pensato di essere, ha inglesizzato anche il tuo nome. Ah, sì, sì, Gerky, che è carne secca. My goodness, gracious me. E allora, all the best, così rimaniamo in inglese. Thank you. E tutta, tutta la fortuna, veramente, perché questo è un progetto, qui lo vediamo come corto a 15 minuti, però invece è un progetto di un film, di un lungometraggio. Di un lungometraggio, sì, sono i primi 15 minuti di un lungo. Many, many wishes. Thank you. Grazie a tutti.